Casi disperati, purtroppo c'è anche questa rubrica, i casi disperati e questa sera per caso disperato abbiamo Max si è presentato la volta scorsa su Strana Muro Siciliano nella rubrica dei cuori solitari ma non ha potuto trovare la sua anima gemella ciao Max ciao allora raccontaci, ne hai ricevuto telefonate quando è andato in onda il tuo video? si, ne ho ricevuto una però non ho concluso niente hai fatto degli incontri? no, neanche uno neanche uno e come mai? cioè tu quale pensi sia stato il motivo? beh forse magari perché non hanno avuto il tempo di vederti giusto non hanno avuto il tempo perché magari quando è andato in onda il tuo video è andato in onda praticamente nella speciale cuori solitari dove magari c'era molta possibilità di scelta, c'erano molti ragazzi e quindi sicuramente esatto questa volta ti abbiamo messo a sola e quindi c'è più possibilità amiche delle spettatrici lo state guardando è un ragazzo simpatico praticamente lavora, che lavoro fai Max? attualmente Luna Park lavori a Luna Park quindi praticamente il divertimento per i bambini non ti manca? non mi manca quanti anni c'hai? 29 hai 29 anni, sei di Trapani? sono di Trapani segno giodacale? Ariete sei dell'Ariete quanto tempo fa sei stato ultimamente fidanzato? fidanzato proprio no cioè hai avuto una storia passata con una ragazza? sì quando è stato l'ultimamente? tre mesi fa tre mesi fa una frequentazione diciamo quindi tu hai tre mesi praticamente che sei single? single è che sono single da sempre che sei solo allora come passa il tempo Max? quando non lavori naturalmente? beh vado in giro in città mi guardo in negozi se vedo una cosa che mi piace l'acquisto sempre in questo modo diciamo come dovrebbe essere questa ragazza che cerchi? come la vorresti? la ragazza che cerco non dico di di volere una ragazza bella però che abbia magari un po' di dialogo che abbia un po' di testa diciamo sei un tipo romantico tu giusto? abbastanza romantico Max amiche delle spettatrici è anche poeta per cui lo abbiamo visto naturalmente nello spettacolo che Serena Mure Siciliana ha fatto il 2 settembre a Paceco in cui lui praticamente è stato anche un concorrente si è esibito raccontandoci alcune sue poesie inventate completamente da te scritte da me dove trovi l'ispirazione? com'è che la trovi? cioè l'ispirazione è di dire le poesie la trovi quando magari sei in un momento della giornata particolarmente triste oppure ce l'hai sempre? no ce l'ho sempre in base a come vivo durante la giornata una frase nuova una frase che non ho mai sentito la giungo diciamo alle mie poesie esatto vabbè ritornando invece all'anima gemella che età dovrebbe avere questa ragazza? tu praticamente parti hai 29 anni quindi da quanti anni dovrebbe partire? l'età base da 24 dai 24 fino a 28 29 anche se ha un anno in più di me non succede niente la vuoi single o diciamo per te non ha importanza? la vuoi meno non ha nessuna importanza l'importante è trovare l'anima gemella l'importante è trovare l'anima gemella esatto va bene Max amiche delle spettatrici abbiamo conosciuto Max un ragazzo di 29 anni di Trapani che cerca la sua anima gemella per cui per tutte quelle di voi che siano interessate a conoscere a Max possono chiamare direttamente al suo numero telefonico che state vedendo insomma in pressione e che Max naturalmente vi dirà anche per voce 328 58 11 137 perfetto per cui amiche delle spettatrici se vedete in Max una certa simpatia una certa attrazione allora chiamate perché Max è un bravo ragazzo e si vuole sistemare ok? per la rubrica dei cuori solitari casi disperati Alberto vi saluta e vi saluta anche Max ciao oh yeah è un bravo ragazzo è un bravo ragazzo è un bravo ragazzo grazie a tutti